La strada provinciale numero 49 della Valle Seriana Superiore sarà chiusa a partire da domani sera e fino a lunedì mattina all'altezza di Ponte Selva in comune di Parre. Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del collettore fognario. Sarà chiuso il primo tratto della provinciale, quello tra il bivio e l'incrocio che porta a Parre. La chiusura scatterà domani sera alle ore 20 e si protrerà fino alle 6 di lunedì. Il traffico verrà deviato in entrambi i sensi di marcia lungo le provinciali 50 e 51. I veicoli provenienti dall'Alta Valle Seriana e diretti verso Bergamo dovranno deviare all'altezza di Villadogna. Quelli diretti verso l'Alta Valle dovranno proseguire verso Clusone e poi deviare verso Piario. Per quanto riguarda i veicoli diretti e provenienti da Parre, il comune, al fine di evitare ulteriori disagi, ha deciso l'apertura al transito veicolare con doppio senso di marcia di via Sottocorna, che è attualmente chiusa nelle vicinanze dell'incrocio con via Libertà. Il transito sarà regolato mediante impianto semaforico.